Forza compagni, entrate nello stesso, chiedeteci notizie, non avete riguardo, chiedeteci notizie e informazioni. Oh cara moglie, stasera ti prego, dia mio figlio che vada a dormire, perché le cose che io ho da dire non sono cose che deve sentire. Proprio stamane, là sul lavoro, con il sorriso del capo sezione, mi è arrivata la liquidazione, mi ha licenziato senza pietà. E la ragione perché ho scioperato, per la difesa dei nostri diritti, per la difesa del mio sindacato, del mio lavoro e della libertà. Quando la lotta è di tutti per tutti, il tuo padrone lo sai cederà, se invece vince perché il promettore ti dà la forza che lui non ha. Questo sedisto davanti ai cancelli, lui si chiamava i compagni alla lotta, ecco il padrone facendo una massa, dopo l'altro cominciano a entrare. Oh cara moglie, dovete rivederli, venire avanti i curvati e spiegati, e noi gridare come i rivendoti, e loro drighetti senza guarda. E i poveretti facevano pena, ma dietro a loro lasso il padrone, rideva allegro il barco padrone, io maledetti senza pietà. Oh cara moglie, io premo sbagliato, dia mio figlio che venga a sentire, ti ha dato a capire che cosa vuol dire, lottare per la libertà. Oh cara moglie, io premo sbagliato, dia mio figlio che venga a sentire, ti ha dato a capire che cosa vuol dire, lottare per la libertà. Che ha dato a capire che cosa vuol dire, lottare per la libertà. Che ha dato a capire che cosa vuol dire, lottare per la libertà. Che ha dato a capire che cosa vuol dire, lottare per la libertà. Che ha dato a capire che cosa vuol dire, lottare per la libertà. Che ha dato a capire che cosa vuol dire, lottare per la libertà. Che ha dato a capire che cosa vuol dire, lottare per la libertà.